Algarilli e Piacenza contro Gubbio per il quattordicesimo turno del girone BDC. 3-5-2 sia per Franzini che per Torrente che in attacco schiere il tandem Gomez-Cesaretti. Passano 5 minuti, Zappella crossa dalla trequarti destra. Paponi sfugge alla marcatura di Conatè e in cornarete. Risposta super, di Ravaglia. Al nono per Greffi mette in mezzo la dente da sinistra in aria. Irrompe al centro con Radiche con un piatto destro di prima intenzione. Coglie in pieno la traversa a Ravaglia battuto. Al quattordicesimo Zappella sfonda sulla destra. Cross liftato e profondo per l'inserimento di Imperiale che di testa cerchi il primo palo. Ma Mugnoz, sempre di testa, anticipa l'intervento di Ravaglia salvaguardando la propria porta. Il Gubbio si scuote al diciassettesimo. L'acti fa correre Mugnoz sulla destra. Cross dal fondo per Zanoni, incornata schiacciata, neutralizzata dall'intervento di Milesi. Al ventunesimo suggerimento di Zanoni in aria per Gomez. Imperiale chiude ma non allontana ed Elfaverus manaccia per evitare il corner regalando la conclusione a Mugnoz che calcia alto. Al ventottesimo Corradi sbaglia uno stop in aria. Ne approfitta Mugnoz che recupera palla e l'ude in dribbling Milesi e della Latta concludendo di sinistro, sfera a lato. Al trentatresimo lo stesso Mugnoz commette fallo da dietro su Imperiale colpendo sia il pallone ma anche l'avversario e l'arbitro Moriconi di Roma 2 estrae il cartellino giallo per il numero 5 rosso-blu. Al minuto trentotto dagli sviluppi di una palla inattiva Zappella croffa da destra. La difesa allontana sul mancino di Nicco che spara al volo all'incrocio. Sensazionale riflesso di Ravaglia che deve in angolo. 0-0 dopo i primi 45 minuti e al quarantesimo secondo della ripresa per Greffi mette in mezzo da sinistri imbeccando Caccia la cui conclusione è contratta da Bacchetti e neutralizzata dall'uscita di Ravaglia. Al cinquantacinquesimo lancio profondo sul vertice destro dell'area per Mugnoz che sterza verso l'interno sul recupero di Imperiale e serva a rimorchio Gomez. Destro secco dell'argentino respinto da Del Favero con un autentico prodigio poi Cesaretti mette dentro la ribattuta ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante ex Paganese. Al 66esimo Corradi imbecca Caccia in aria controllo a destra sul primo palo Ravaglia respinge poi Caccia mette in mezzo trovando però solo difensori rosso-blu. Al settantesimo transizione veloce Gubina con Gomez che mette tra le linee per Tavernelli subentrata Cesaretti pallone in mezzo a Zanoni chiuso al momento del tiro dall'ottimo recupero di Marotta. Al 74esimo dalla Latta al volo pesca sui 30 metri Corradi che come un giocatore di beach soccer controlla di destro e calcia di sinistro tutto al volo e solo il provvidenziale colpo di Reni di Ravaglia vanifica un gol che sarebbe stato strabiliante. Al 77esimo poi Nannini subentrata imperiale mette in mezzo da sinistra Bacchetti chiude su Caccia ma la sfera torna allo stesso Nannini steso da Mugnoz proprio all'ingresso dell'area di rigore. Per l'arbitro è punizione ma soprattutto secondo giallo per Mugnoz che viene così espulso lasciando i suoi in dieci uomini. Torrente allora toglie sbaffi inserendo Filippini passando di fatto al 4-4-1 ma 7 dalla fine Corradi croffa da sinistra per Paponi che sovrasta proprio il non entrato Filippini e con una sontuosa torsione aerea lascia di sasso Ravaglia che può solo osservare la sfera infilarsi all'angolino. Piacenza in vantaggio e nono sigillo in campionato per Paponi sempre più capocannoniere solitario del girone BDC. In inferiorità numerica il Gubbio non riesce a regire al minuto 88 dagli sviluppi di un corner e anzi il Piacenza sfiora il raddoppio con un destro al full micotone di Zappella che incoccia la traversa e batte sulla linea prima che il gioco venga fermato per la posizione irregolare di Silla appena entrato per Caccia. Il Gubbio prova comunque a spingersi in avanti negli assalti finali ma senza costrutto. Vincono gli Emiliani che salgono a quota 23. Resta a 13 il Gubbio che domenica prossima alle 17.30 al Barbetti avrà lo scontro salvezza contro il Cesena.